A meno di un mese dal Natale, il generale inverno è pronto a dare il meglio di sé. Già lo scorso fine settimana abbiamo avuto le prime avvisaglie sulla penisola salentina con un primo assaggio della stagione invernale. Ora una nuova ondata di temporali e venti forti è pronta a sferzare le nostre coste. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo con codice arancione che prevede nelle prossime ore precipitazioni diffuse, venti di burrasca, mareggiate e un crollo delle temperature in tutta la Puglia, possibili grandinate. Grande attenzione per il rischio idrogeologico, in particolare nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Le previsioni degli esperti non sono rassicuranti. Violenti nubi fragi potranno interessare diverse zone della nostra regione con forti venti ed elevata attività elettrica. I fenomeni più consistenti sono attesi sui settori più a nord della Puglia tra la serata di oggi e la prima parte di domani quando potranno risultare particolarmente insistenti soprattutto sui rilievi esposti alle correnti orientali. Il settore centrale della Puglia, invece, dopo un coinvolgimento parziale nella giornata odierna sarà ben più esposto domani, soprattutto tra mattina e pomeriggio quando il ramo occluso della perturbazione porterà fenomeni abbondanti più probabili sull'alto barese. Il settore meridionale della nostra regione, quindi il Salento sarà interessato da rovesci alternati a schiarite ma tra il pomeriggio e la sera di oggi saranno possibili fenomeni più intensi. L'ondata di maltempo continuerà fino a sabato con le ultime piogge residue. Domenica migliora ovunque, le temperature resteranno però piuttosto basse ma in progressivo aumento, mentre il vento sarà moderato di maestrale.